Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, oggi è il giorno di Turam, le visite mediche, ovviamente l'Umanitas, il CONI, la firma sul contratto, 5 anni di contratto, di Turam, ho già parlato, sono contentissimo di questo acquisto, una certa contraerea naturalmente vi dice ma segna poco, lo dico per l'ennesima volta, 16 gol in 32 partite più 7 assist significa che in pratica segna ogni due partite, Lukaku e Dzeko nell'ultima stagione hanno segnato un paio di gol in meno, ma direi ormai di archiviare Turam che è un giocatore dell'Inter, viva l'Inter. Fratesi, fratesi, siamo rimasti soli, si va su fratesi, visto che il Milan è andato su Loftus Cic, nemmeno per sogno, sapete che da me non avete le suggestioni, da me avete le certezze, oggi io di certezze non ne do, inutile che mi tirate per i capelli, che tra l'altro li ho anche tagliati, perché dopo Scrinia e Bremer aspetto, aspetto per festeggiare, aspetto, anzi vi posso dire anche se è uscito di scena il Milan, perché secondo me dopo le ultime parole di Carnevali e dopo anche quelle abbastanza indicative di Fratesi ha capito che prendeva un alter giafun, un alter giafun se si metteva a fare il derby su Fratesi, io non sono per nulla tranquillo su Fratesi perché secondo me c'è la Juve sotto traccia e c'è pure la Roma e l'Inter, come sapete, Zang è stato chiarissimo, un euro entra, un euro esce, che poi in realtà non è così, è un euro entra e se possibile 70 centesimi escono, quindi prima si deve chiudere la vicenda Brozovic, Brozovic che è vero, continua un pochino a fare il finto tonto sull'offerta dell'Al-Nazr, perché c'è il Barcellona che comunque continua a dire dai dai vieni da noi, allora non è un grosso problema per l'Inter, ve lo dico sinceramente, perché comunque l'Inter, oddio, non è un grosso problema, l'Inter dall'Al-Nazr incassa 23 milioni, il Barcellona è fermo a 18, per accontentare Marcello Brozovic si potrebbe tornare a parlare anche col Barcellona, però c'è un problema di ingaggio che il Barcellona ha limite a Brozo da 7 e Brozo ha detto se proprio devo andare in Arabia e uscire dal calcio che conta 20 non mi basta, non me ne date 30, il problema è che se poi gliene danno 30 non è che può chiamare ancora il Barcellona, però è un problema onestamente di Brozovic, l'Inter se lo dà al Barcellona probabilmente incassa 18 ma magari può spingersi fino a 20, se lo dà al Al-Nazr ne incassa 23, 3 milioni oggi sono importanti, guardate che con Zanga qui sono importanti anche i 500 euro, però capisco Brozovic che dica insomma io tutto sommato posso restare nel calcio che conta, però è ovvio che guadagno poco più che all'Inter, un nuovo guadagno 7, magari con il bonus arriva a 8 o quello che volete voi, di là ce ne ha già 20 promessi e ha sparato addirittura 30, bisogna vedere se gli arabi gliene danno 30 all'anno, cosa farei io? Ma tanto io non sono Brozovic, certo restare nel calcio che conta per un 31enne non mi sembra poco, magari calcio arabo può dargli appuntamento anche l'anno prossimo, però va bene non è un problema dell'Inter, l'Inter è meglio che metta in conto una cifra dalla cessione di Brozovic, che ripeto ha 31 anni, attorno ai 20 milioni, io sto basso, se poi saranno 23 o se saranno 18, insomma siamo intorno a quella cifra lì, e Lukaku, Lukaku è lì che aspetta, secondo me è un po' in tensione, è inutile che ce lo nascondiamo, oggi il De Telegra scrive, scambio con la Juventus, Chelsea-Juventus, Vlaovic al Chelsea, Lukaku alla Juve, insomma io sto alle dichiarazioni di Lukaku, che continua a dire e ha detto anche recentemente, io al Milan o alla Juve mai, però come se ne esce? Io lo so che non volete sentirne parlare, però io non vedo altra soluzione, se si vuole riprendere Lukaku, il Chelsea non lo presta più, gliel'hanno detto anche in cinese, come prestito semplice, bisogna studiare una formula per cui Lukaku diventi un giocatore dell'Inter, ovviamente non quest'anno ma l'anno prossimo, l'Inter secondo me potrebbe dire va bene dai lo prendo a 30 milioni, quelli là ne vorrebbero 40, però non lo so, insomma magari una via di mezzo si trova, però io non riesco a vedere ad oggi un'altra soluzione per trovare questi soldi che non passi dalla vendita di Onana, e quindi poi del portiere, adesso non fatemi parlare del portiere del futuro perché non ho tempo, cioè parliamo adesso di come riprendere Lukaku, bisogna riprenderlo garantendo l'obbligo di riscatto, l'anno prossimo, a giugno 2024. Allora, una soluzione ci sarebbe pure, fare cassa per avere i soldi per riprendere Lukaku con Gossens. Allora, quelli di Brozovic abbiamo capito che vanno su frattesi e non bastano, no? Perché bisogna aggiungere gli altri più mulattieri, allora io penso, ma qui veramente dobbiamo andare nel mondo dei maghi, bisognerebbe raccimolare questi soldi da Correa, Gossens e Dunfris. Non vedo altre soluzioni, ragazzi, io altre soluzioni non le vedo. E poi arrivare a 30 non è mica così semplice, tenendo conto che poi, voglio dire va bene, adesso vedremo cosa fare con Bellanova, ma comunque poi sei scoperto sulla destra, se metti ovviamente in pista Dunfris. Cioè ti vuoi tenere il portiere e vuoi prendere Lukaku, ho capito anch'io, ragazzi, ma qui stiamo qua, stiamo a scherzare, ho capito anch'io, che bello. Piuttosto che perne uno li voglio tenere tutte e due, ma sono capace anch'io, ragazzi, però purtroppo, ripeto ancora una volta, un euro entra, un euro esce, che poi dal mio punto di vista è un euro entra, 70 centesimi esce. Allora, queste sono le situazioni immediate. Intanto è arrivato Turam, ragazzi, godiamoci Turam, poi c'è tempo, il mercato parte il primo luglio. Una cosa è certa, Lukaku, poccettino del Chelsea, lo vuole fuori dalle balle entro il 17 di luglio, quando cioè parte la stagione ufficiale con due neamichevoli eccetera del Chelsea. Ecco, la data limite, insomma, l'ha fissata il Chelsea. Entro il 17 luglio Lukaku deve aver trovato un posto. Lui vuole trovare un posto all'Inter. Io non vedo grandi artifici per riportarlo qui, se non quello di investire il capitale incassato da Onana e poi pensare al portiere, o altrimenti, ripeto, bisogna inventarsi altre cessioni, certo che anch'io farei questa seconda cosa, ma non mi sembra, posso dirvi amici, non mi sembra così semplice. E comunque a me il mercato piace. Il mercato che sta facendo l'Inter a me piace. Adesso faccio un passo alla volta, quindi darò l'ufficialità di Azpilicueta quando sarà, darò la conferma di Bellanova quando sarà. Insomma, abbiamo capito che poi alla fine, insomma, sono questi i nomi che girano. Poi abbiamo tanti discorsi in ballo, sempre con l'Atalanta, ma insomma l'Atalanta è una bottega troppo cara. Tu continui a parlare, ma poi alla fine ti sparano delle cifre, per cui secondo me non riesci neanche a sederti al tavolo. Adesso la cosa che mi preme è di capire che cosa farà Brozovic. Quindi sceglierà di guadagnare meno soldi e resterà nel calcio che conta, leggi Barcellona, oppure veramente sparando 30 milioni, che è una cifra addirittura 10 milioni in più di quello che gli hanno offerto per tre anni, oppure andrà in Arabia, certo che se diamo 30 milioni poi non è che puoi dire ne voglio 40, quindi o il Barcellona si inventa qualcosa per andargli incontro, ripeto per l'Inter non sono pochi al momento, mi pare di aver capito che ballino 5 milioni. Certo che se il Barcellona salisse, se il Barcellona salisse, si potrebbe anche accontentare Brozovic, che poi rischierai di trovarti contro, vorrei anche ricordarvi questo piccolo problema, però insomma staremo a vedere, tanto ci aggiorniamo di ora in ora, ciao ragazzi e viva l'Inter! Inter! 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 Grazie a tutti.